I quattro pilastri dello sviluppo e dell'apprendimento nella scuola dell'infanzia Nella scuola dell'infanzia lo sviluppo del bambino è facilitato da quelle che sono le competenze naturali, più si agisce su queste abilità più si garantisce uno sviluppo armonico del bambino. Quelli che potremmo definire i pilastri dell'attività educativa didattica nell'infanzia sono il movimento, musica e canto, filastroche e disegno, pittura, manipolazione